Ah, internet, 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 quel potente mezzo di comunicazione, di massa, dove ogni utente, ogni persona del mondo, ogni piccino, piccolo così del mondo, e certo non viviamo sulla Luna o su Marte, ma dove ogni singola persona può andare a cercare e può trovare ogni cosa che li frulli nella testa. Non so, a una persona mi viene in mente, voglio cercare cappero, appunto, che cappero ne so, mi è venuto in mente il cappero. Che cos'è un cappero? Andiamo su internet, andiamo su Google, fate una cavolata perché non mi sono messo il microfono. Che cos'è un cappero? Andiamo su Google. Stavo dicendo, prima che scoprissi che il mio microfono è andato a fare una passeggiata, insomma, che Google, di conseguenza, è una grande... cioè, offre svariati servizi online. Allora, cosa facciamo quando noi ci domandiamo che cavolo è un cavolo, come ho detto, oppure un qualsiasi cosa? Andiamo su internet, cerchiamo cappero. Cos'è un cappero? Ecco, il cappero è un piccolo arbusto, non so neanche parlare oggi, su fruttice, vaffanghe, per me che lo sto leggendo, sto coso. Ci dice pure le coltivazioni, ci dice tutto internet. Guardate quanto è disponibile. Ci dice, do cappero, possiamo trovarlo il cappero. Anche le cose non inaspettate, oltretutto. Anche cose strane, sui capperi. Che ne so. Oggi scopriamo che i capperi ballano. Sanno volare, come gli asini che volano. Ma come stavo dicendo prima, internet è un grande mezzo di comunicazione di massa. Appunto che di massa è un grande, cioè, alla fine quello è. Eppure, questo grande mezzo di comunicazione si sta sgretolando. Abbiamo sentito parlare, 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 dell'articolo 13. Molti, nemmeno sanno cosa sta accadendo. I telegiornali, non ne sta parlando. Oh, ci fosse un telegiornale che sta parlando di questo argomento. Che avvisa, che dice alle persone, oh, sta accadendo questo. Rendetemene conto. Se ne sta occupando più nei dettagli. Se ne stava già occupando prima, già da quando era nato. O già da quando non era ancora nato sto problema. In pratica, c'è questa legge, questo articolo 13, che si occupa del copyright. Il copyright che cos'è? È un argomento molto importante che si trova ormai, cioè, si può dire che si trova in tutti i siti web, in tutti i social network, tipo che ne so, Facebook, Instagram. E per l'appunto, YouTube, si occupa di gestire e controllare un file, tipo un video, un'immagine, una foto. Se questo file, appunto, è protetto da diritti d'autore. Quindi da elementi che sono protetti da copyright. Appunto, questo è quello che fa, che ne so, YouTube, appunto. Solo che YouTube, per il fatto che ci sono veramente tantissimi YouTuber in Europa, già in Italia, non si sa quanti, caspita, ne sono di YouTube, comunque ne sono tantissimi. Contando, ovviamente, quelli che sono più popolari, quelli che sono meno popolari. Quindi contando tutti i YouTuber Italia, oppure, cioè, Europa, che appunto questo sta capitando in Europa, diciamo così, in Europa, siamo veramente tantissimi. E proprio per questo YouTube non può controllare creator per creator, e soprattutto video per video, se questo video è protetto da diritti d'autore, e quindi se contiene elementi, scene, che ne so, clip, o anche audio, quindi canzoni, per esempio, che sono protette da copyright. Quindi non può controllare ogni video, ogni cosa. Allora, cosa ha YouTube? Ha un sistema, diciamo così, automatico, un algoritmo, che nel momento in cui il video viene caricato, controlla se nel bel mezzo del video ci sono clip, o se ci sono canzoni o audio, che appunto sono protetti da copyright. Mettete caso che, che ne so, voi mettete una canzone, che ne so, dei Queen, o una canzone di Eminem, YouTube vi avvisa che avete inserito nel vostro video una canzone che non è di vostra proprietà, cioè non l'avete creata voi. E quindi vi avvisa dicendovi che, che ne so, è stato bloccato in alcuni paesi, basta andare in gestione video, in questo caso il triangolino giallo, e lì c'è scritto che è stato rimosso in alcuni paesi, quindi non in tutto il mondo. Oppure potrebbe capitare che, soprattutto con clip visibili, quindi, con scene proprio, in quel caso si va a riscontrare il copyright, diciamo così, quello pesante, e che viene rappresentato con il triangolino rosso. E' stato bloccato completamente, quindi nessuno può vederlo. E quindi questo è il copyright. Quello che sta capitando, non lo sta raccontando, non dico nessuno, però sono in pochi che si stanno occupando di avvisare o di informare i fan, o chiunque, insomma. Insomma, quest'articolo 13 tratta il copyright, senza andare nello specifico, perché veramente è una cosa, comunque, che se volete vi metto il link in descrizione per andare a trovare, insomma, la pagina che YouTube ha fornito per spiegare, insomma, questo articolo. In pratica, questo articolo 13, che è stato formulato, appunto, dal Parlamento Europeo, perché riguarda l'Europa, diciamo così, l'Europa, YouTube stesso sa che, appunto, se questa legge andasse in vigore, insomma, l'accettassero, si creerebbero tante, ma veramente tante, gravi conseguenze, che poi, alla fine, riscontrerebbero tutti. Inoltre, oggi che sto facendo questo video, ha anche messo dei piccoli annunci, cioè, tipo, come adesso vi starò facendo vedere in questa clip, avvisa di questo articolo 13 tutte le persone che vanno su YouTube a vedere video che, alla fine, come vi stavo dicendo prima, se l'articolo 13 dovesse essere accettato, insomma, dalla maggior parte delle persone, molti video, molti creators, alla fine, andrebbero persi. Anche video vecchi, cioè, se tipo, un video, che vi devo dire, del 2013, contiene dei contenuti che vanno contro la legge del copyright, contro le norme, questo video verrebbe bloccato all'istante. L'articolo 13 prevede un copyright molto, ma molto severo. Per il momento, diciamo così, che si trova più o meno a livello normale. È ovvio che si deve prendere la propria responsabilità su ciò che inserisce nel proprio video, quindi neanche porta, appunto, su internet. Cioè, tipo, io metto, appunto, una canzone, devo essere certo che questa canzone, che io sto per mettere, non vada contro le norme che YouTube o internet, insomma, ha, diciamo così, aderito. Save the Internet, che, appunto, YouTube mette, ha messo a disposizione questo sito, che poi è anche un hashtag, insomma, per contribuire, per salvare internet, chiede di firmare, insomma, questa appetizione per avere molti voti così da poter salvare internet. Vi metto anche questo link in descrizione nel caso voi voleste e dovreste per il vostro bene, perché se questa legge dovesse essere accettata, tutte le vostre accuse preferite alla fin fine andrebbero completamente persi, cioè, non se ne troverebbe traccia. Il 12 settembre si è iniziata a parlare di questa legge, il Parlamento ha deciso di procedere con l'articolo 13, solo che per il momento non è ancora una legge che è stata fissata, non è ancora una legge vera e propria, dovrebbe essere definita verso la fine di quest'anno, quindi del 2018. YouTube ha confermato, sostiene gli obiettivi dell'articolo 13, quindi sulle norme del copyright, quindi sul copyright, però il copyright che ha in mente il Parlamento europeo, che avrebbe intenzione di inserire, si va incontro a tante di quelle gravi conseguenze che voi non avete un'idea, è grave qui la situazione, cioè internet rischia veramente di sparire, perché non riguarda solo YouTube, appunto che save your internet, riguarda proprio l'intero internet, tanti di quei siti hanno comunque la responsabilità delle norme del copyright, prendiamo come esempio YouTube appunto, YouTube deve prendersi la responsabilità di controllare i video di tutti i creator, ovviamente con questo sistema, perché come vi ho detto all'inizio, è veramente complicato con tutte le persone che ci sono in Europa e nel mondo che caricano video contenuti insomma su YouTube, è veramente complicato stare a controllare tutti i video di tutti i creator, cioè sarebbe un macello. Molti di questi social network, di questi siti web come appunto YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook e SoundCloud, nell'incertezza che un video contenga questi, cioè dei contenuti protetti da copyright, eliminerebbero insomma il video all'istante, comunque sia il file, sia audio che sia un video appunto, verrebbe eliminato subito. L'unico modo per poter contribuire, per essere diciamo così contro questa legge, questo articolo 13, ma non perché non sia importante il copyright, il copyright è importante, però per come il Parlamento lo sta prendendo questo articolo 13, sono arrivati a un livello eccessivo, dove praticamente uno non avrebbe la possibilità di fare niente quasi, non sarebbe più internet come lo vediamo adesso, cioè tuttora, cambierebbe completamente, però è ovvio che questo per il momento non è ancora una cosa certa, bisogna vedere se quest'articolo 13 verrà definito insomma verso la fine dell'anno, l'unico modo è collaborare e quindi farci dei video su quest'articolo e spiegare ai fan e a chi ci segue cosa sta accadendo e come riuscire a risolvere, un altro modo è appunto entrare in questo sito che si chiama save your internet e questo lo può fare a chiunque ovviamente anche chi non è uno youtuber o comunque sia un creator non si spende niente è veramente gratuito basta scrivere nome e cognome e la propria email e in questo modo state dando un contributo per salvare internet chi vuole può anche donare qualcosa però quello non è obbligatorio ma è importante che voi sappiate tutto questo per poter salvare internet va bene che ci sono come dicono tanti si stava meglio prima senza internet oppure che tanti pensano ancora come faremmo senza internet è uno strumento buonissimo per fare qualsiasi cosa ma è ovvio che deve essere utilizzato nel modo giusto è comunque vero il fatto che il copyright non deve neanche essere eccessivo non bisogna neanche abusarne insomma dell'utilizzo del copyright più o meno è ciò che sta facendo il parlamento europeo in questo articolo 13 non dico che ne sta abusando insomma però sembra che stia andando per quella strada quindi io vi metto il link in descrizione per poter contribuire con Save Your Internet e vi metto anche il link in descrizione se voleste leggere insomma e informarvi dalla pagina a dato disponibile youtube youtube stesso questo è stato un video molto diverso ma c'era bisogno che comunque non so in quanti l'avranno visto questo video però tu che hai visto questo video spero che tu faccia la scelta giusta e spero che tu abbia capito ciò che sta accadendo e come poter salvare Internet da questa situazione perché è veramente una situazione molto grave contribuite tutti con un voto su Save Your Internet per rendere Internet un posto migliore e per poterlo salvare sembra che fosse una di quelle frasi da film vendete il mondo un posto migliore da stessa cosa noi ci vediamo con un prossimo video non so quando non so di quale genere ma voi salvate Internet ricordate Save Your Internet c'è c'è Grazie a tutti. Grazie a tutti.